Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione di Assicurap, il software dedicato alla rete di Assicurasi, siano essi agenti, subagenti e broker. Io sono Paolo Baldassare, sono il responsabile tecnico e ho il piacere di presentarvi questo software innovativo. Anzitutto il software è un software web, quindi non c'è a destra l'areniente ed è consultabile in ogni momento e in ogni occasione. La piattaforma dedicata agli agenti e subagenti assicurativi è una piattaforma, come dicevo, web e presenta una dashboard, quindi una fase iniziale, dove c'è un colpo d'occhio generale molto molto utile per chi poi lavora tutti i giorni. Nel corpo centrale vedrete le novità di Assicurasi, siano essi nuovi prodotti, siano essi novità, contest e quant'altro. Sulla parte sinistra avrete tutti i link collegati ai prodotti principali, ovviamente si potrà anche andare a vederli in altri modi, ma è molto più semplice da una dashboard generale. Vedere come stanno andando le vostre preventivi in quotazione, quotati, le pollizie attive e quant'altro. E sulla parte destra dello schermo vedrete quanto state guadagnando in questa settimana, nel mese e anche le quote di brocchieraggio a voi dedicate. La piattaforma presenta già 135 prodotti in quick quotation. Abbiamo studiato una tecnica tale per cui per voi sarà molto semplice preventivare, tra poco lo vedremo, e avere una preventivazione istantanea. Siano essi per i prodotti RC auto che rami elementari. Basterà andare a scegliere il prodotto che serve a voi e in questo caso facciamo un preventivo su un biologo. Basterà inserire il nome e cognome e i dati che richiede la quick quotation. In questo caso è il massimale di una polizza. Nel caso del RC auto potrebbe essere la targa e la targa di nascita del proprietario del veicolo. Con pochissimi dati avrete in tempo reale la vostra quotazione. La quotazione sarà nell'area preventivi e prima di richiedere l'emissione potrete anche decidere qual è il premio di polizza, compreso la quota di broccheraggio, che voi volete dedicare al vostro cliente. Sarà infatti molto semplice, con un click, poter decidere il premio e anche automaticamente la vostra provvigione, la provvigione della compagnia, scusate, della compagnia della rete commerciale. Una volta richiesta l'emissione, il back office non farà altro che controllare la veritice da dei dati e i documenti, mettere tutta la documentazione a norma di legge, il modulo 7a, 7b, la quota di broccheraggio e quant'altro e voi vi ritroverete la polizza direttamente emessa per poter darla al vostro cliente. Tra le funzioni che abbiamo anche trovato c'è una comoda chat per ogni preventivo o polizza per poter direttamente collegarsi in tempo reale al back office di Ashikurasi. Con questa prima sezione abbiamo finito il cuore della piattaforma per voi così importante, cioè com'è facile preventivare e accedere a questo strumento che poi diventerà la vostra normale routine di lavoro. Partendo dalla chat poi avrete sempre nella dashboard tutto lo stato dell'andamento delle vostre preventive, delle vostre polizze. In questo caso dovete ragionare che noi stiamo interagendo con il back office dell'area amministrativa, quindi ci potrebbe essere documenti mancanti in attesa di quotazione perché magari abbiamo richiesto una quotazione particolare, è una cosa preventivata e il back office sta valutando oppure ovviamente la polizza è già emessa. Quindi in questo caso il sistema informaticamente in tempo reale gestisce il tutto, velocizzando tutti i processi. Una volta emessa la polizza avrete sempre dalla vostra dashboard dedicata l'aspetto provvigionale, quale compagnie avete premiato piuttosto che altro e tutta una serie di informazioni utili per la parte delle preventivazioni fatte, delle polizze emesse e degli stati della vostra pratica. L'idea è aiutarvi sempre di più a crescere professionalmente insieme con noi, dandovi una serie di informazioni non solo sull'andamento economico della vostra performance, ma anche su quali prodotti avete scelto, quali prodotti sono stati preventivati, non sono andati a buon fine, proprio per darvi un panorama completo e crescere insieme. Sono sicuro che questa piattaforma migliorerà drasticamente le performance di tutti noi e vi informo sul fatto che sempre di più cresceremo e non sarà il primo appuntamento ma non sarà l'ultimo per darvi tutte le novità con assicurasi. Vi ringrazio il vostro tempo e a presto.